Un nuovo caso di meningite in Sardegna, l'ottavo negli ultimi mesi. Un informatore scientifico, 60 anni di Pavia, è stato ricoverato giovedì pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sassari per una sospetta sepsi-meningococcica, confermata poi dalle analisi di laboratorio. L'uomo, che si trovava in Sardegna per motivi di lavoro, si è sentito male nell'aeroporto di Alghero, dove ha ricevuto i primi soccorsi dallo staff medico dello scalo catalano. Successivamente è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale algherese e infine trasferito d'urgenza nel reparto ospedaliero del Santissima Annunziata, con prognosi riservata. Il Servizio di Igiene Pubblica della AS numero 1 nelle due sedi di Sassari e di Alghero ha avviato immediatamente l'indagine epidemiologica, tesa ad individuare i contatti del caso ed attivare, dove necessario, i relativi provvedimenti di profilassi.